Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia Ci troviamo qui a casa mia e sto per proseguire il mio progetto del reattore Allora Fermi tutti, c'è un problema Allora, ho smanitato un po' col programmino per fare il reattore E è venuto fuori che la cosa migliore che posso usare sono le advanced Così, advanced, advanced, queste qua Advanced Heat Vent, Advanced Heat Exchanger Che si fanno con tutta questa roba che c'è con gli Heat Exchanger Cioè, dei craft abbastanza lunghi, si può dire Oddio, non proprio lunghi, non direi Però è fattibile Io sinceramente volevo fare una piccola autocraft Solo che non ho molto quarzo 73 quarzo non basta Quanto ne serviva per fare quella min autocraft l'altra volta? Dovrei riguardarmi il video Comunque ne serve molto di più di quanto ne ho al momento Quanto riesco a farne? Due Due quarzo? Non sarà mica troppo? Ho qualcosa da buttare lì dentro per fare quarzo Tipo carbonella, 173k Non sarebbe una cattiva idea Anche dei mele ne ho 51k Sono come 100k di carbonella, 51 mele Eh, parliamone Cominciamo a buttare dentro un po' di mele Magari qualcosa viene fuori Eh? Credite? Ok, almeno mucchio un po' di quarzo, ragazzi Eh sì, mi serve Perché voglio fare la stato craft per le ventole Ok, intanto noi facciamo partire un reattore Vi faccio rendere conto un po' del craft con me Perché alla fine tutto è dense copper plate Quante ne servono? Oh mio Dio Allora, ho fatto 15k di copper plate Un po' tantine E ho fatto 24 dense copper Sì, me ne sono rimaste 24 Perché ho lavorato Ai rattori, ragazzi Le ho un po' modificate Adesso vi faccio vedere Un po' il lavoro che ho fatto Intanto mi attrezzo un po' dei materiali che mi servono Marmo Mi servono un po' di liquidut Ok, altri liquidut Grazie E poi mi serve un cacchio di niente Andiamo a collegare il tutto Se dovrebbe essere tutto pronto Sì Vi faccio vedere Certo, effettivamente mettere un export e un import Su questo compressor Non sarebbe una cattivissima idea In effetti Vediamo se riesco a metterci C'è un export e un import Sì, l'export ce l'ho Dovrei avere anche l'import Allora Import Sì, questo è quello che ho configurato Ma non mi frega un cacchio di niente Perché devo attaccarlo solo qui Uno E due Allora, qui devo esportare copper plate E qui devo importare Hashtag Allora, vediamo un po' se ho dei cable Per collegare il tutto Sì, perfetto Un attimo ci ho messo ragazzi Guardate, voilà Piastre di rame infinite Ah sì, dense Copper plate Ma arrivano? Non arriva la roba Arriva stack Ok, arriva stack Perfetto Ok, ne piastre ho otto alla volta Cavolo, mamma mia Tanta fortuna Vabbè, io lascio fare un po' di dense copper plate Tanto ci servono Dov'è il problema? Ok, eccomi qui Allora Ho aggiunto altre tre turbine Devo ancora metterci il rotore all'interno Le ho messe solo a questa E non ho ancora lavorato all'MFSU Quello che dicevo Per accumulare energia Vabbè, quello lo faremo poi Guardate, ho fatto sto sistema qui Ho deciso Quattro turbine Ovviamente adesso ne metterò altre quattro Solo quattro non bastano Decisamente Ovviamente dovrò fare un altro tunnel È stata un'impresa Fa sto cacchio di tunnel ragazzi Perché era tutto pieno d'acqua Praticamente la soluzione migliore Ecco appunto Volevo farvi vedere La soluzione migliore che ho trovato Per rimuovere l'acqua E riempire tutto E poi scavare Non c'è nessun altro modo Tappo tutto completamente Guardate che palle Cioè immaginate che sono stato qui un'ora A fare sta cosa Così Riempire tutto il tunnel Tutto pieno, completo Eh sì C'è chi mi ha consigliato Di usare una spugna Ma a me sinceramente Non so nemmeno come si crafta O dove si pia Quindi non Sicuramente non mi interessa Facciamo così Così Guardate Ecco Ho tappato l'acqua Niente di più easy peasy È facilissimo Più che altro Due palle per farlo Non potete immaginare Vedete Riempio tutto E poi scavo Tadam Dai però Ah pure qui c'è stava l'acqua È vero pure qui c'è stava l'acqua Guardate cosa ho fatto insomma Ho sistemato i reattori in questo modo Sì Ho craftato degli altri Sì ho craftato altri reattori Allora problemi Problemi risolveteveli Allora Dicevo Sono arrivato a Quattro reattori Uno, due, tre, quattro E ho lasciato sotto lo spazio Giusto giusto Per far passare i tubi Perché io volevo fare una cosa del genere Ecco qui c'è l'acqua Mi frega un cacchio Devo far passare i tubi così È qui che passa Sì Uno, due Tre Quattro e cinque Vedete? E poi scendono giù Dentro il nostro stanzino qui Guarda un po' Che ne dite di questa idea di tubazione? E lo stesso succede da quest'altra parte Da lì Parte un tubo che scende Praticamente sono nella parte centrale sotto Al reattore Guardate come viene bello carino Qui potrei anche chiudere tutto Alla fine non è importante che sia scoperto I tubi sono solo per comodità E qui in teoria andando dritto per dritto Sbuco Dove stavo? Di là ovviamente Se riesco a salire con quest'acqua magari Ecco Andiamo fatta Miracolo Ok qui sbuco dove stanno i tubi E vado a collegare il tutto Proprio facilmente Molto molto facilmente Aspetta però Se io No No si va bene così No va benissimo Sti due tubi li tiro su subito Qua A questi reattori qua Quegli altri due li tengo di là Perfetto perfetto Mi piace Mi piace Si può fa Si può fa Si può fa Si può fa Carino eh Mi piace Allora Questi due Questo L'attacco qui E non c'è dubbio Quest'altro L'attacco qui E questi altri due Li attacco di sotto Per di là Ok abbiamo fatto Quattro reattori differenti Che portano a quattro turbine diverse E ogni reattore produce esattamente Cioè dovrà produrre Che ancora non produce Ovviamente devo ancora sistemare il setup Però dovrebbe Cioè In teoria i conti sono giusti Però dovremmo provarlo in gioco Perché alla fine è sempre un programmino Non l'ho ancora provato in gioco Quindi non so se funziona Ok così collega E così collega Voi là Quattro reattori collegati E adesso io vorrei andare un attimo qua sopra Però come faccio ad arrivarci Devo fare un collegamento esterno No Devo passare forza da fuori Devo inventarmi qualcosa all'esterno Andiamo a vedere di fuori Che figata ragazzi Sono collegati proprio bene Mamma mia Detto impianto Questo dovrei farlo passare qui Ah Fin di tubi Mi servono altri tubi I need the tubes Mi servono i tubi Vabbè Poi li rimediamo Andiamo a vedere qui fuori Come si può collegare il tutto In teoria potrei mettere una scaletta Oppure far entrare direttamente da qui Potrei fare tipo un'entrata No però Brutto capito Vediamo un po' Come potrei organizzarmi A fare un'entrata Che non sia orribile E inguardabile Magari da quel tunnel di passaggio Però Come cacchio faccio Mi devo inventare qualcosa Dovrei impi tutto De marmo poi Passiamo un attimo da sotto Anzi Vediamo un attimo Allora cerchiamo di salire un attimo Senza fare danni Allora il mio problema qui calè Io volevo fare come un reattore vero Che qui c'era l'acqua Perché nei reattori veri ragazzi Le celle sono coperte Dentro la città Qui ci vuole l'accetta Ci vuole l'accetta Porca valetta Non ce l'ho Vabbè I reattori veri Sono sommersi dell'acqua Quindi ci dovrebbe essere Uno strato d'acqua A questo livello E quindi intorno Ci dovrebbe essere Il punto dove si cammina Comunque il passamano Come volete chiamarlo Comunque il terrazzino Dove la gente cammina Per guardare dentro l'acqua Dovrei fare tipo una cosa del genere Ecco in questo modo Io dovrei essere in grado Di camminare sul bordo Certo ovviamente Questi angoli fatti così Non camminerò mai Però a dettagli Ecco in questo modo Ah potrei mettere Uno strato di vetro Allora Potrei farlo sotto vetro Perché no Chiudo tutto Così E poi metto uno strato Di reinforced glass Bello mi piace Mi gusta Perfetto Perfetto Allora chiudiamo tutto qui Così Sì li metto dentro l'acqua Ragazzi Alla fine L'utilità in gioco Non c'è Cioè il fatto di mettere Sotto l'acqua È solo Per bellezza Nessun altro Ecco qui Una cosa del genere E adesso qui io metterò Spaccano Non si spaccano mai Tanta fortuna Dovrò mettere Un punto d'accesso Dietro Qui dietro Qua Che si collega Sotto con il tunnel Di servizio Che abbiamo creato Lì sotto Quello lì Quel tunnel lì Deve collegarsi Con delle scale Che vanno lì dietro Tipo da qua Deve gire a destra Ma tonda Quanto macello devo fare Perché poi qui sotto C'è l'acqua Capito Cioè Quello è il problema E qui si dovrebbe collegare E farmi salire Al piano di sopra Qua Vediamo un attimo Vediamo un spacco A 1 2 3 4 Dovrebbero bastare Vediamo un attimo Vediamo se bastano Per il mio scopo Sì Perfetto E qui dovrebbe esserci Tutto il reforce glass Con l'acqua sotto E i miei I miei generatori di uranio Quindi i miei reattori nucleari Nucolari Reattori nucleari Si dice nucolare Ragazzi Non vi sbagliate mai E nucolare Ecco qua Ci passo io qui Sì Perfetto Non deve essere Alla fine Ragazzi Non deve essere Uno spazio aperto Deve essere Uno spazio a un gusto Dove noi ci infiliamo Solo per raggiungere I nostri reattori Anche qui deve essere chiuso Tutto chiuso Non deve essere una zona figa Deve essere una zona chiusa E precisa Qui sotto c'è l'acqua Immagino E quindi potrebbe essere Un po' un problemino In effetti Che ne dite Della mia idea del reattore È veramente figo Sapete E farò lo stesso sopra Mi sa Sapete Ora se le scale le sposto tutte da qua Eh sì perché adesso io qui sopra Vorrei fare degli altri reattori Qua Però Qui vorrei fare Siccome sto più in alto Vorrei fare quelli più potenti Insomma quelli che non vanno Proprio con le turbine Che producono steam a bestia Proprio pesantemente E poi vabbè Poi vi farò vedere comunque Tutto Tutto in In progettazione Comunque Devo ancora pensarci Ok Devo sfondare E collegare quelle scale Sarà impossibile Qua di ora c'è l'acqua Tanta fortuna Xander Mamma mia che voglia c'hai Che voglia c'ho De fa' ste cose Io non lo so Veramente Guarda Come me pia Me pia veramente a male Quando me pia voglia De fa' ste cose Perché mi sta a prendere Veramente a male E poi gioca a minecraft Quando mi pia veramente a male Mi metto a fa' ste cose Ok Chiuso Oh Ho fatto un pezzetto Incredibile Ok da qui devo girare di là Aspetta no Non guardabile Ecco così Ok qui adesso giro di qua E vado verso le scalette Che stanno lì sopra Che non so dove cacchio stanno Ho fatto il buco Dovrei trovarlo Qualche modo Madonna St'acqua che rompi palle Non lo sopporto poi Perché scorre Senza motivo Non lo sopporto Odio la Io odio l'acqua di mine Mi da un fastidio Sta cosa che mi respinge Dov'è il foro? Ah Ecco muoio affogato Forto No sono ancora vivo Ok niente Ma c'è ci dovrebbe essere Ma l'ho fatto L'ho aperto No non l'ho aperto il buco Ecco perché Andiamo sopra Allora ok Mi butto sotto Dovrei entra subito Nell'altro ingresso Vediamo Eccomi qua Ok ecco l'ingresso Ecco il foro che devo raggiungere Ok non dovrebbe essere difficile Un po' di impegno ce la faccio Certo cercando di non morire affogato Xander non morire affogato Non mi pare il caso Muoio 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 Porca paletta Porca Ok ragazzi Dovrei avercela fatto Ho fatto una cosa un po' Ho riempito tutto completamente di marmo Ho fatto un blocco gigante di marmo Dovrebbe essere Aspetta quanti quadretti Uno due tre Dovrebbe essere qui la fine No ho sbagliato Cacchio sto scavando Mannaccia Ah no è qui È giusto Sì 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 giusto È giusto È vero perché qui non ho riempito tutto Perfetto Ok ci sono eh ragazzi Ci sono La smetti di piazzarmi i blocchi qui Ok ci sono Sì l'acqua pure sopra Te saluto Ok Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ecco il collegamento Madonna ragazzi Non ci credo mai Ce l'ho fatta Ok perfetto Adesso le ripassiamo tutte di concrete Pa Pa E pa Wow Ma se tolgo tutto sto marmo E metto il concrete Che è più guardabile Mi piace il marmo Cioè la zona delle lenti sopra Deve essere di concrete La parte sotto Insomma lavori dove passo io Deve essere tutto di marmo L'ho deciso io È così Fine Eccoci qua Tutto collegato Ok Quindi dal sotto Dalla sessione manutenzione Io posso salire con la scaletta Certo ovviamente una torcia Potrei anche mettercela Perché qui sponerà il mondo Fra poco Però dettagli Vediamo tutto Facciamo un bel tappo Tutto qui Vediamo tutto Pa 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 Chiuso Sì Anche qui Un altro bel tappo Pa Pa Dai Ecco qui Tutto chiuso Adesso devo andare sopra E tappare anche da sopra Allora vediamo i fori che ci stanno Qui questo non mi piace Non i fori romani Ma i fori bughi nel terreno Qui è tappato Qui è tutto tappato E' abbastanza sistemato L'ho fatto raga Niente di più semplice Adesso devo solo rimediare L'acqua per tappare Invece per capire l'acqua Quella che volevo io E togliere queste scale Che sono orribili Ok L'ultimo punto da chiudere Che è questo E qui dovrei anche chiudere Questo soffitto Che è inguardabile Ok Uno Ah no Aspetta Ecco qua Et voilà Oddio ragazzi Non ci credo Ho finito di piazzare Tutti i reattori L'unica cosa che manca L'unica proprio banale Che potrebbe anche Non essere necessaria Perché alla fine Lo posso anche mettere a mano L'uragno Non è un problema Tanto ciclo una volta ogni 6 ore Mi pare Quindi Una volta ogni 6 ore Potrei venire a rifornire L'uragno a mano E Quello che mi manca È automatizzare con l'ME Cioè le celle di uranio Che vanno dentro automaticamente Ma sinceramente Beh adesso Guarda vi dico solo Chi se ne fotte Cioè Va benissimo così Allora Quindi adesso qui dovrei Continuare a scavare E collegare anche queste altre zone Dimmi che qua sotto c'è l'acqua Ah no c'è terra Oh c'è terra Bello Quindi si collega anche più facile C'è proprio easy pisi Ok Tutti questi dubbi Deve andare sotto quindi Io qui lascio aperto Lo sapete Non lo rifaccio al tetto Perché fa figo Almeno vedo Cioè comunque Figata Mi piace Tutto perfetto raga È venuto tutto come volevo Madonna Non ci sto credendo La centrale più bella Che ho mai fatto Spacca tutto qui Non ho mai fatto una centrale così bella No 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 Non ho fatte tante delle centrali Ma così no Così proprio no Sfascia tutto Sfascia tutto Vabbè ragazzi Anche per questo video è tutto Io vi saluto Ci vediamo nel prossimo Dove probabilmente avrò Talmente tanto quarzo Che posso permettere Un autograft Perché ovviamente adesso ci but Tutta la carbonella E tutte le mele La buffo lì dentro Sì 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 Adesso facciamo Adesso facciamo quarzo Poi vorrei anche ampliare Le farm di alberi Perché non mi bastano Così come sono Ne voglio altre Perché fa più figo Spam infinito E io vi saluto Ci vediamo nel prossimo video Dove sicuramente Anzi 100% Andrò a mettere online Sti reattori Perché alla fine c'è tutto Ripeto Manca solo l'acqua decorativa Che sinceramente Chi se ne fotte I vetri decorativi Ma chi se ne fotte E possiamo attivarli Proprio easy peasy Ci vediamo tutta sta merda Che non mi piace Mettiamo tutto marmo Non apprendi altro marmo Nelle mele Eh sì Mi sa proprio di sì 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 Qui ci stiamo tutto Qui c'è tutto più bello Tolgo tutto E' schifo Mettiamo il marmo Sparisce tutto qui Via Mettiamo nuove lampade Mettiamo tutto Illuminazione interna Illuminazione esterna Retroilluminazione Led Parasoli E tutto quanto Per questo video è tutto Ciao a tutti